buona giornata amici bentrovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è lunedì 20 maggio 2024 iniziamo insieme una nuova settimana diamo tantissime notizie oggi sui giornali perché poi il weekend è stato ricco ricco di avvenimenti innanzitutto poi ricorderemo anche delle nostre notizie sportive la grande vittoria della smart system ovvero della virtus che sale di campionato e va in a2 ebbene intanto noi procediamo attraverso l'almanacco del giorno e vediamo di chi è la festa oggi non è un santo che si festeggia ma ovviamente è qualcosa di più perché la venerazione nei confronti di maria della madre di gesù è una venerazione che acquista una sensibilità maggiore ebbene oggi maria la si festeggia come madre della chiesa siamo il lunedì dopo le pentecoste e la ricorrenza di oggi è stata fissata da papa francesco l'11 febbraio del 2018 il lunedì successivo alle pentecoste si festeggia maria madre della chiesa per evidenziare appunto che la madre di gesù è anche madre di tutti gli uomini e anche quindi madre della chiesa un appellativo che la rende ancora più vicina ai fedeli perché poi il rapporto materno è un rapporto che ognuno sente nel suo cuore passiamo ora alle previsioni del tempo c'è un graduale peggioramento oggi sulla nostra regione per quanto riguarda il passaggio di un fronte perturbato le temperature saranno stazionarie dai 17 gradi la minima ai 22 la massima un leggero peggioramento rispetto ai giorni scorsi i venti sulle coste espireranno da est sud est nell'entroterra da nord ovest il mare è praticamente calmo il vento è debole e il sole è sorto alle 5 e 37 e tramonterà alle 20 e 30 di questa sera ciò detto passiamo alle notizie del giorno a partire dal resto del carlino vediamo il sunto della prima pagina per quanto riguarda la nostra regione partiamo dalla provincia di pesaro urbino dove anche qui abbiamo un una bella notizia di carattere sportivo perché è agli ultimi in zona cesarini così possiamo dire per quanto riguarda il confronto che la visse ha svolto contro il re canati ha ottenuto la salvezza e rimane dunque in serie c la visse si salva al 95esimo erano già i minuti di recupero al benelli finisce 4 a 3 pensate che entusiasmo e che capovolgimento ha seguito questa partita però va giù la re canatese scoppia la festa dei tifosi biancorossi dopo la grande paura ai leopardiani non basta o super sbaffo condannati alla di i leopardiani sono ovviamente i giocatori della re canatese vediamo le altre notizie una notizia di cronaca ci viene da fossombrone dove un carabiniere per due volte parlando con il suo interlocutore ha salvato la vita a un uomo che voleva farla finita e poi da pesaro invece ci proviene la notizia di un furto di un telefonino sembra una cosa ormai normale abituale insomma adesso un telefonino vabbè costa 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 ma abbastanza ma non è poi un bottino trascendentale ebbene questa notizia invece vi fa vedere come tutta questa vicenda assume un rilievo particolare vediamo le altre province ancona a folle di gelosia tormenta la moglie scatta il divieto di avvicinamento è stato denunciato e il giudice gli ha messo poi il braccialetto e poi ancora il telefonino il telefonino impone nei guai un un extra comunitario che va lo perde va a incommissariato a denunciarlo però gli agenti qui si accorgono che lui era ricercato e quindi lo mettono in prigione causa di sfratto ancora rinviata per un malato di sclerosi multipla che si incatena a monte san vito e poi sul conero invece l'assalto dei motociclisti i residenti chiedono i dossi per evitare insomma questo frastuono e questa scorribanda dei centauri sulle due ruote ad l'ascoli è fermo si pone in evidenza questo omicidio avvenuto tramite un investimento sembra che l'amico lo abbia investito con l'auto per errore ebbene dopo una serata un po particolare interrogati i ragazzi con i quali era scoppiata una zuffa da ascoli a fano il tour di italiani ieri il vice premier e il ministro degli esteri è venuto nelle marche ha fatto visita anche a fano accolto da tutti gli estimatori di forza italia è stato ricevuto al pesce azzurro dove insieme ad altri candidati ha parlato della posizione italiana in ambito europeo tagliani stesso è candidato alle prossime elezioni europee a castello di lama una vita dedicata all'arte il piceno piange marisa marconi poi vediamo anche la cronaca di macerata movida notte folle ragazzini ubriachi raffica di malori a macerata palazzi inagibili le maxi demolizioni verso il traguardo insomma sono queste brutture che ci sono nei centri storici che poi devono essere ovviamente o rimodernate o ristrutturate oppure abbattute e rifatte da nuovo a porto re canati invece rifiuti in fiamme colonna di fumo invade l'hotel house il famoso hotel house che sarebbe un grande edificio che sorge sulla costa di re canati ed ora diamo un'occhiata invece nell'interno per quanto riguarda il resto del carlino dove si parla appunto di quanto è avvenuto invece a villa fastigi a villa fastigi un'auto ha fatto da matti praticamente ha fatto da matti perché andando a folle velocità in una zona dove pur vinge un limite di 30 chilometri orari è andata a sbattere contro un dehors facendo tantissimi danni 10.000 è la stima dei danni che sono stati provocati si tratta di una gelateria il bar fabbri di villa fastigi ebbene che cosa è accaduto è accaduto che un'auto lanciata a forte velocità malgrado appunto il limite che c'era nella zona ha distrutto tre fioriere fioriere pesanti pensate del peso di tre quintali un pluviale il contatore del gas ha schiantato il palo della segnalettica stradale del divieto di fermata e i danni ammontano appunto a 10.000 euro per fortuna che tutto quanto era era coperto da assicurazione e quindi i proprietari bene o male avranno un risarcimento però insomma queste cose devono essere eliminate insomma non si può andare avanti con questa sfida ai divieti che vengono continuamente ignorati da delle persone che sono maleducate soprattutto per ricci accusa noi nel merino vieni oltre strappati i manifesti intatti quelli del pd ebbene questa volta abbiamo una sfida che è lanciata dalla candidata sindaco pia per ricci ad un ignoto strappatore che a villa fastigi si diverte a strappare i manifesti elettorali salvando però quelli del partito democratico probabilmente insomma è uno di sinistra che ce l'ha con quelli di destra tu mi strappi il manifesto e io te lo riappiccico e vediamo chi si stanca prima questa è un po è la contesa che c'è a villa fastigi villa fastigi poi è un centro particolarmente improntato al rosso del centro del centro sinistra ma comunque c'è una sfida continua di carattere elettorale e poi vediamo questa vicenda del telefonino che gli è stato rubato si tratta di un uomo che veniva dal sud america e che era atterrato all'aeroporto di malpensa ebbene qui nel momento in cui ha ritirato i bagagli ha appoggiato il telefonino e in un in un luogo e quando è andato a riprenderlo si è accorto che non c'era più glielo avevano rubato ma guarda il caso quel telefonino era collegato con un'app che attraverso un geolocalizzatore poteva individuare il percorso che faceva e seguendo appunto le onde trasmesse dal satellite questo uomo si è incaponito per andare a ricercare quello che gli era stato rubato gira gira e si è accorto che dalla malpensa che è l'aeroporto di milano questo telefonino si era fermato a pesaro allora cosa ha fatto dalla malpensa è venuto a pesaro la prima cosa che ha fatto è andato il commissariato in questura e ha denunciato il furto del telefonino e poi ha indotto e loro ovviamente sono stati molto solerti i poliziotti ad recarsi nell'indirizzo segnalato appunto dal geolocalizzatore dove si trovava una signora una signora dell'america latina che aveva rubato il telefonino questa sulle prime ha negato tutto poi di fronte all'evidenza ha ammesso di aver rubato e così l'uomo è riuscito a riprendere il suo telefonino gli è costato perché insomma da milano venire a pesaro per recuperarlo non è stata una cosa semplice però insomma alla fine tutto si è risolto e la donna è stata denunciata per furto per ricettazione anzi dobbiamo dire esattamente vediamo ora ancora le notizie quella notizia che ci viene da fossombrone dove un carabiniere ha salvato la vita per ben due volte a un uomo un 46enne che tentava che voleva farla finita e aveva pensato di gettarsi dall'alto del dirupo del piazzale degli zandri l'appuntamento parlandogli in modo molto calmo molto pacato lo ha fatto sedere gli ha parlato gli ha detto tante tante cose e alla fine lo ha convinto ancora una volta a salvargli la vita e la stessa cosa aveva fatto un giorno prima quando l'uomo aveva espresso la stessa intenzione l'ha trovato in piedi sulle muraglioni con in mano un cartone divino gli sarebbe bastato un passo per farla finita invece quel passo ha deciso di farlo verso la vita verso la vita cioè verso il piazzale e non verso il dirupo e così si è salvato vediamo anche quest'articola centropagina sul resto del carlino sembra per quanto hanno denunciato due consiglieri comunali che sono lucia tarsi e pierpaoli di fratelli d'italia che l'ex convitto ennam il vittorio colonna dobbiamo dire così tanto per capirci meglio è stato oggetto di recenti lavori di di restauro di tutela per quanto riguarda l'ordine pubblico invece sembra che extra comunitari continuino ad usare questo staboli per dormirci e la notte e ovviamente i consiglieri fratelli d'italia imputano la responsabilità di nuovo all'amministrazione comunale sono stati fatti i controlli quanti controlli sono stati fatti le misure di sicurezza sono state osservate ebbene c'è una interrogazione che però non potrà essere discussa in consiglio comunale perché il consiglio comunale non si riunisce più se non dopo le elezioni e vedremo se queste domande troveranno risposta comunque il problema è veramente un problema che si trascinerà fin quando il vittorio il vittoria colonna non verrà ripristinato non verrà abitato di nuovo e non verrà data a questo stabile una nuova funzione si parla sempre di una funzione di appartamento per anziani autosufficienti però ancora la proprietà non ha dato segni in questo senso se non delle mere intenzioni tutti pronti per la tintarella in 140 per lo screening sui nei 10 casi da approfondire scusate eccolo qua l'articolo di cui ho menzionato il titolo si tratta di un successo conseguito da un'iniziativa del Rotary Club che sabato e domenica scorsa l'altro ieri e ieri hanno organizzato a Palazzo San Michele una visita un controllo sui nei delle persone dicevo sabato subito è un'iniziativa che è data subito a esaurirsi perché dopo mezz'ora tutte le prenotazioni erano state occupate ebbene su 140 casi una decina sono state individuate come meritevoli di ulteriori controlli quindi queste persone sono state indirizzate nel reparto di dermatologia dell'ospedale Santa Croce ed è veramente un'utile iniziativa questa perché un semplice neo se poi così assume una forma particolare e beh può dare veramente dei grossi e di grossi problemi per la salute umana questo per quanto riguarda il resto del carlino ora diamo un'occhiata anche al Corriere Adriatico vediamo la pagina di Fano eccola qua si parla della bandiera blu della bandiera blu che Fano ha avuto per il diciassettesimo anno consecutivo non è una cosa facile non è una cosa consolidata ogni anno l'impegno degli addetti dell'ufficio turismo e dell'ufficio ambiente che collaborano per svolgere tutti gli addempimenti necessari per presentare la domanda per ottenere la bandiera blu quel significativo riconoscimento organizzato dalla FEE la FEE è una fondazione di carattere europeo che assegna un simbolo un riconoscimento a tutte quelle località che non solo hanno delle acque balneabili e veramente attraenti per quanto riguarda la loro igienicità ma anche tutti quei servizi che possono rendere la località come una località appetibile dal punto di vista turistico ebbene Fano ha avuto questo riconoscimento per la diciassettesima volta per la gran parte dei 17 chilometri di costa da Fossoseiore a Ponte Sasso e Ponte Sasso è stato l'unico chilometro insieme a pochi metri della foce dell'Azilla che non ha avuto questo riconoscimento alla foce dell'Azilla perché le foci dei torrenti e di fiumi sono sempre problematiche la foce dell'Azilla non ha funzionato al 100% anche la vasca di prima pioggia che è stata allestita per convogliare le ondate di piena verso il depuratore di Ponte Metauro e Ponte Sasso invece perché ci sono gli scolmatori mentre qualcosa sta migliorando e altri provvedimenti sono in atto ma quest'anno non è stata fatta domanda né per la foce dell'Azilla né per Ponte Sasso perché si sapeva che insomma non sarebbe stata assegnata la bandiera e questo l'avrebbe preclusa per poi altri tre anni a venire comunque le località che si vantano di questo contrassegno sono tutte le spiagge a nord quelle di Gimarra verso Fosso Segiore e poi ancora il Lido di Fano che dall'anno scorso ha ottenuto il riconoscimento la Sassonia, Baia Metauro, Metaurilia, Torrette queste sono le località che sono pregevoli dal punto di vista turistico qui abbiamo l'assessore Etienne Lucarelli che è andato a Roma a ritirare la bandiera blu l'articolo a fondo pagina si riferisce al salvamento operato da un carabiniere ad un 46enne che voleva gettarsi in un dirupo e poi un fatto che si è verificato purtroppo con un lutto nella città di Fano aveva passato il pomeriggio di sabato a giocare a carte con gli amici e la sera con la solita comitiva aveva deciso come talvolta faceva di venire a cena a Fano purtroppo un malore fatale è stato veramente fatale per Luciano Catalani 80 anni di Senigallia camminava a braccetto a Fano con un amico quando a un certo punto ha avuto un malore è caduto a terra e purtroppo non c'è stato nulla da fare ieri mattina domenica c'è stato un incontro con i tre sindaci con i tre candidati sindaco appartenenti alle forze politiche che competono nella campagna elettorale insomma non c'è festa per i candidati che sono sempre sulla breccia ormai manca meno di 20 giorni alle elezioni quindi si danno veramente molto molto da fare ebbene abbiamo Stefano Marcheggiani candidato sindaco dei progressisti abbiamo Cristian Fanesi candidato sindaco del centro-sinistra e Luca Serfilippi candidato sindaco del centro-destra i quali si sono confrontati ieri mattina con i componenti del comitato del centro storico quel comitato che lotta per avere un centro storico vivibile e assai qualificato il rumore, l'inquinamento sonoro è stato un po' al centro anche delle dibattito e diverse soluzioni sono state presentate dai candidati sindaco Serfilippi ha descritto un centro storico meno sicuro dal punto di vista della sicurezza e ha proposto l'aumento dell'organico della polizia locale mentre Fanesi ha replicato ricordando che anche nel centro storico sono state posizionate tantissime telecamere mentre Marcheggiani ha fondato il discorso proponendo un rapporto molto molto stretto tra provvedimenti di ordine sociale e provvedimenti di ordine della sicurezza l'acqua del cimitero esce anche dei loculi nel cimitero di Rosciano che sappiamo versa in condizioni di degrado da diverso tempo ed ora il problema è stato posto alla ribalta da Romina Bucchi candidata per la lista civici Fano per quanto riguarda la Val Cesano popolazione in calo del 10% un fenomeno che ha preoccupato la candidata sindaca Bartocci che ha presentato la sua lista fate rete con il territorio invece per quanto riguarda Senigallia abbiamo delle proteste perché sono state negate delle manifestazioni organizzate dal Partito Democratico niente sit-in sulla sicurezza del Misa e non nel permesso per organizzare la festa della unità che doveva essere realizzata nei giardini morandi sono stati richiesti appunto per questo scopo ma oggi vorrei dedicare invece anche spazio al sport perché ci sono state delle notizie molto importanti in modo particolare per il calcio per la Vis Pesaro una salvezza incredibile agguantata proprio nell'ultima frazione di gioco di questa partita contro il Re Canati il cui risultato è finito con quattro gol per la Vis e tre per la Re Canatese ci abbiamo messo l'anima è un po' il cordoglio del Re Canati e poi girando la pagina vi faccio vedere anche l'articolo che riguarda salto quello del Fano Calcio perché ormai lì non c'è più speranza invece un'intervista a Emilio Cenerilli per quanto riguarda la strepitosa vittoria della Smart System contro il San Donato di Piave di sabato scorso più forte di ogni avversario è stata anche questa una partita al Cardiopalma che però è stata vinta nel set finale dai giocatori fanesi il presidente del club Granata si gode la promozione in A2 ma lavoriamo ora alla squadra ebbene questo è un articolo dove si esprime emozione, passione e contentezza e poi tutto questo avverrà in una festa che verrà realizzata prossimamente a Tre Ponti e con questa notizia noi terminiamo la nostra rassegna stampa dandovi appuntamento come sempre nella giornata di domani grazie per l'ascolto e a risentirci